Bene a tutti ragazzi, vi presento la collezione di Fiji Spinner di mille accendini Mille accendini? Ma chi è mille accendini? Eeeh... Come non sai chi è mille accendini? Tu, interrogata, chi è mille accendini? E' uno che vendeva tanti accendini E poi dopo è diventato... E' diventato uno che vende spinner No, uno youtuber Un youtuber Un youtuber Uno youtuber famoso Allora ragazzi, non so come vende spinner Però questo spinner, chi è che mi aiuta a girarli? Ragazzi, mi aiutate a girare gli spinner? Ok ragazzi, mi rifate un po' girare Ragazzi, in particolare oggi andiamo a parlare di questo spinner qua E' la penna spinner che mi è stata inviata Me l'hanno regalata per recensirla a un sito cinese Che anzi, vi metterò il link in descrizione Per arrivare a questo articolo Pensate che mi sembra che costa solo 4 dollari e qualcosa Quindi vuol dire più o meno 4 euro Allora, andiamo a vedere sta penna spinner Allora, ve la tiro fuori Allora, i fidget spinner nascono come giochi terapeuci Dici? Perché ci stanno i ragazzi con gli autistici Che gli piace, hanno bisogno di girare qualcosa E quindi sfogandosi su sta cosa qua Riescono, che ne so, a sta fermi Magari stanno a fare la fila dei poster E stanno fermi E però fondamentalmente Questa è una cosa che c'è in tutti Tant'è che il fidget spinner ha avuto un successo globale Perché tutti abbiamo voglia di far giro un solo a qualcosa E questa è la penna fidget spinner Vediamo quali sono le sue caratteristiche Beh, c'è questo coso che gira Quindi voi potete via e girare questo coso qua Su e giù così, mentre state così Poi la penna si piega Ma guardate che figata Quando state a scuola Che le maestre vi sequestrano di fidget spinner La penna non ve la possono sequestrare E quindi potete stare così E in più abbiamo Andiamo a vedere nella confezione Sempre questa penna Che secondo me Ci mette un po' a arrivare dalla Cina Perché se uno la ordine dalla Cina A vedere ci metterà 20 giorni a arrivare Però per 4 euro Alla fine costa poco Allora abbiamo questa cosa qua La mettiamo qua E noi abbiamo questa cosa qua E quindi magari mentre stai Ancora Ecco, c'è una cosa da giù Se aggiungiamo un'altra cosa La mettiamo pure questa qui E quindi magari, guarda Guarda, poi prende E poi giocacci così Guardate È figo, regà Non ho finito, regà Non ho finito Qui la penna si stacca in questo modo Qui abbiamo la penna Questo è il tappo Possiamo prendere il tappo E attaccarlo qui Possiamo prendere il tappo E attaccarlo qui Possiamo prendere La pallina E metterla qui No, no Ma qui per le valla sarà un casino Poi abbiamo queste altre cose Li possiamo mettere qua Poi abbiamo questa pallina La pallina potrebbe andare attaccata qui E noi fa la gironsola con le dita così Cioè, e nel frattempo la giriamo così E quindi se noi abbiamo bisogno sempre di stare a toccare qualcosa Possiamo smanettare sopra De sotto De su De giù Che dici? È carino? Sì È carino Quindi questo se merita Di stare Adesso ho fatto un casino Ho messo La pallina Voi girate 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 Adesso Ok Oh crash Crash Incidente di fidget spinner Mentre Mentre vado Allora vabbè Questo poi lo sistemerò La tolgo Allora Vi faccio vedere una a uno Dai Vi faccio vedere una a uno Lo girate l'altro Una a uno Li metto qua Carino questo Carino Molto elegante Colorato Anzi no Non elegante Molto coloreto Poi Datemelo un altro Sceglietelo uno Ok Guardate questo qua Questo è arrivato ieri Guarda che figo Che figo Che figo Che figo Allora qua Che hai tu che hai scelto Dammelo uno Qua Uno Qua Guardate questo qua Classico Figgio spinner Anche questo me l'hanno inviato per recensire Una ditta francese L'ho recensito sul canale di mio figlio Mille Accendini Lego A proposito che siete iscritti al canale Mille Accendini Lego Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti Così ci danno il premio dei 100.000 iscritti Dai ragazzi Su iscrivetevi al canale di Alessandro Mio figlio Mille Accendini Lego Che ogni giorno presenta Figgi Spinner Oggi faremo dal campeggio Una Camping California Camping California faremo una Questo quando gira a l'orizzontale è fighissimo Questo più che quella ditta è figo quando sta sul tavolo A Camping California faremo un nuovo unboxing sul canale Mille Accendini Lego Con altri bellissimi fidget spinner Che mi sono stati mandati in omaggio da delle ditte Per poterli recensire Questo è figo È piccolo però È antistress È piccolo piccolo Carino raga Guardate come gira elegante Che me ne dà un altro Oh ragazzi Questo qua è rotto da un lato Da qui funziona Da questo altro lato si ferma Che strano Aspetta Da qui funziona Ah intanto c'è le lame taglientissime Vediamo pure questo raga Allora Oh un legno raga È particolare In legno è particolare Ci penso io A girare uno spinner Che me ne dà Questo ha vinto il regolo Adesso raga facciamo una gara Dei fidget spinner Chi dura più a lungo vince E me io poi facciamo una gara Ognuno di voi può scegliere un fidget spinner Cominci Dai prendetelo uno per uno Pigliatelo in mano Io scelgo questo Quale? Uno Brava Tu già tre Vabbè tu due dai Prendi pure tu Tre pure tu Dai tre Allora mettiamole tutti così Oh non me le fa sparicchia così Non me le fa sparicchia Vai Allora facciamo una gara Vai Allora qua guardate ancora Avete preso tre per uno? Lo sai io ti consiglio questo Questo è vinto sempre Ah guarda un po' Se l'ha fregato lui Allora chi è? Dai e tu che l'hai presi? L'hai presi? Oh no Vai 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 Poi Uno solo Per terra Sotteteli sul tavolo Appoggiatevi sul tavolo Ognuno Prendiateli bene Tutti e tre eh Al tre cominciate Pure tu tre Vai No io ho due Due Allora Al tre ragazzi Si aziona eh Uh Pronti? Pronti? Ferma Prima Andate a girare Tutti fermi Uno Due Tre Uno Vai Andate a girare Una schicchera Eh Non li potete rispringere più eh Ok Ok Va bene Andiamo a vedere così In tempo reale Eh raga È un broiale Non si tocca più Vediamo quale che vincerà Tutti questi Questo ha perso Ok Questo ha perso Guardate Quindi questi Capita Due Perdono Gli altri tutti quanti Vedo che avete scelto Quelli rodoni Sono stati scelti da tutti Vedete Qui li avete lasciati Questo ha perso Vai Fede Quale No Ancora no Non deve essere pessimista Non si sa mai Chi va piano Va sano Lontano Dico bene Chi va piano Ha perso Ha perso Ha perso Quindi questi qua Bisogna rendersi all'evidenza E anche questi due Hanno perso Hanno perso Tanto carini Tanto carini Tanto carini Questa bella colorazione Che va tanto De moto De refugio spinner E il dollaro Non basta Non basta un bel colore Non basta un bel colore Questo ha perso Ragazzi A questo tutti avrebbero detto Chissà quanto Che vinceva Invece no Non ha vinto Sanno Addirittura Guardate Quello che sembra Capitano America Questo è Capitano America Che sembra che gira Fiacco Fiacco Invece Va piano Ma abbassando E lontano Qui sta ancora Una tonda Vedete quelle tonde Stanno tutte quante In buona classifica Ah se stava a fermare Questo Guardate No no Si capisce Che non è Non è il top Ragazzi Noi qua vogliamo capire Che sono i top Avete scritto Quello che avevo detto Che avrebbe fatto Un buon risultato Questo e questo L'altra volta hanno vinto Però Stanno girando bene Anche tu Ma tu c'hai una tecnica C'hai un segreto particolare Per girarle Come hai fatto? Eh io darò forza E hanno una bella schiccara Gli hai dato Bravo Bravo E poi ho scelto i miei migliori Ottimo Ottimo Buongiorno Allora Qui gira Oh tu Hai scelto di pochi Però questo gira Va bene Attenti dammi una scelta Perché sei piccola Dai gira ancora uno Potresti recuperare Oh uno solo Però Pronto Pronta 3, 2, 1 Via Bella schiccara Ragazzi Girata di talento Allora qui ragazzi Quelli che stanno Fanno parte Proprio della serie A Tu stai in zona Promozione come girata Questa è quasi morta Però sono quasi morti tutti Ragazzi Sono quasi morti tutti Ragazzi Qui siamo messi così Morto 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 Capitano America Morto questo Zitti ragazzi Sono rimasti solo 5 Vincere questo Morto Questa era il migliore Per me Invece Invece guardate A me ancora Un po' mi gira Gira tutto Ragazzi Tu con due Non ci avrei mai scommesso Che i luoghi Andavano in un finale Così Tu non girate 5 C'erai uno solo In finale Ho perso Hai perso Sì Ho fatto vedere Ragazzi 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 No Non ci credo Ragazzi Questo Costa solo 5 euro Un figio spin Economicissimo Ha perso Ragazzi Guardate quanto gira Guardate De quanto ha vinto No no Hai stravinto Che cosa Che cosa sentite dire A tutto il popolo di Youtube Adesso che ha vinto La gara dei figio spinner Più Grande D'Italia Ragazzi Eccolo qua Guardate Non si è fermato Guardate De quanto ha vinto Non si è fermato Secondo me questo Più al vento Ha vinto Ragazzi Va bene Va bene ragazzi Ma siamo ora Una sfida da A3 No vabbè Ma la facciamo A telecamera Spente Ragazzi Se vi è piaciuta La mia collezione Di figio spinner Io vi consiglio Di iscrivervi Al mio canale Mille accendini Lego Perché Praticamente D'ora in poi Ogni giorno Faremo Degli unboxing Di figio spinner Anche tra i più belli Di tutto il mondo E più costosi Di tutto il mondo Pensate che Da Dubai Mi hanno spedito Un figio spinner Programmabile Che mentre gira Il figio spinner Fa apparire le scritte Lungo il figio spinner Perché A seconda di dove si trova Fa apparire le scritte Lo puoi programmare Si puoi scrivere Quello che vuoi tu Quindi Mi arriverà a giorni Perché mi hanno dato Già il corriere DHL Non perdere l'occasione Di guardare Tutte le novità Ne dovranno arrivare Un centinaia ancora Tra i più belli E costosi del mondo Sul canale Mille accendini Lego Lego Che non è questo canale Ma è il canale Di Alessandro Il mio figlio Salutatemi ragazzi Dite di mettere Pollici in su E commentare Mettete i pollici in su Tu che dici Di qualcosa Anche Oltre il pollici in su Che devono fare Devono commentare Devevi commentare Commentare i video Ciao